Più appalti pubblici, meno procedure. Il Presidente Compaccio ha rappresentato il bilancio dell'Agenzia per i contratti pubblici. La priorità è quella di ridurre la burocrazia. C'è i valori, le somme appaltate in tutti i settori, sia per quanto riguarda le forniture, ma anche i servizi e le costruzioni, cioè le opere pubbliche, in modo molto rilevante, in tutto un aumento del 21% dopo già anni di successo, nel 2016-2017, dove già questa legge ha avuto i suoi effetti e c'è stato un continuo aumento, un ulteriore 21% che si è aggiunto in termini di somme appaltate. E questa è anche una dimostrazione che gli investimenti li facciamo e come. Tecnicamente si chiama deriva ed è il temuto effetto sconfinamento dei prodotti fitosanitari nelle fasi di trattamento delle coltivazioni. In sostanza il prodotto finisce non solo sulle piante, ma anche nelle zone limitrofe. La provincia di Bolzano impone importanti novità, soprattutto dal punto di vista tecnico. Dal 2020 in poi, il trattamento con prodotti fitosanitari, delle colture arboree, in frutti e viticoltura, deve essere eseguito soltanto con atomizzatori muniti di uccelli ad iniezione d'aria, i cosiddetti uccelli anti-deriva. E questo vale non solo per la frutticoltura e la viticoltura, ma anche per la produzione integrata e quella biologica. Le organizzazioni e le associazioni alto tesine del volontariato possono accedere per finanziare la propria attività al Fondo per il Terzo Settore creato dallo Stato nel 2017. La giunta provinciale ha approvato il primo avviso pubblico per la presentazione di iniziative e progetti. A disposizione delle associazioni ci sono complessivamente 671.320 euro.